Ora si registrerà la conferenza. Questo webinar si inserisce all'interno di un filone di quattro ed è quello forse che si scossa un po' di più rispetto agli altri, nel senso che mentre gli altri tre riguardano le tecnologie di rilievo LIDAR, quindi rilievo tridimensionale, questo riguarda un'applicazione specifica che vede l'integrazione di ricevitori TNSS e applicazioni GIS da campo. Di fatto sarà, lo vedrete, un esempio di un'applicazione che secondo noi è abbastanza significativo perché rende un po' l'idea di qual è l'intero flusso di lavoro a partire dall'acquisizione fino ad arrivare poi alla gestione alla gestione in campo e alla gestione a posteriori poi in ufficio. È un flusso di lavoro che a noi pare virtuoso, diciamo così, nel senso che lo stiamo utilizzando, lo utilizziamo e ci sembra con buoni risultati, per cui l'idea era proprio quella di condividere appunto questo approccio che ci sembra efficace e che vede l'integrazione appunto di ricevitori di con certe caratteristiche, adesso poi vedremo quali, e di applicazioni GIS per lo più basate su QGIS, quindi open source, sia per la gestione in campo che a posteriori. Questo tipo di presentazione vede due attori principali che vedete rappresentati qua, da un lato G-Ter, dall'altro Stonex. G-Ter è un'azienda che si occupa di quelle aree che vedete sulla sinistra, quindi GNSS in particolare è quella da cui è nata di più, però poi ci sono una serie di altre aree che riguardano il rilievo tra le ditte, l'allievamento, molto forte l'aspetto GIS e web GIS, formazione R&D. In generale G-Ter è un'azienda che fa service, quindi che fornisce servizi di rilievo, di customizzazione, di sviluppo portali, di portali, plug-in in ambiente QGIS, cose di questo tipo, oltre all'attività di formazione. Dall'altro lato c'è Stonex, che vi introduco io, ma credo che non abbia così tanto bisogno di presentazioni, che è invece l'azienda che fa la sua produzione e vendita, diciamo per lo più, di strumenti, hardware e software per il rilievo, con tutta la serie di servizi accessori, come l'assistenza, la riparazione e anche in questo caso la formazione e la ricerca e sviluppo. Dalla collaborazione di questi due attori nasce appunto questo esempio di applicazione, che però appunto non è soltanto un esempio, a nostro parere, ma è un modo di lavorare che può essere applicato e sviluppato in tantissimi altri contesti. L'idea di utilizzare i ricevidori GNSS per i rilievi speditivi in campo è ovviamente comune a tanti di noi. Buongiorno. Questo è un modo, buongiorno a tutti, questo è un modo per cercare di rendere il flusso di lavoro più fluente, più efficace, più rapido, con meno errori possibili. Lascio quindi la parola ai due relatori che sono Lorenzo Benvenuto e Roberta Fagandini, che si occupano delle due parti, quella un po' più legata al ricevitorio GNSS e quella più legata invece all'applicazione GIS Mobile. Buongiorno a tutti, spero che riusciate a sentirmi. Io sono Lorenzo Benvenuto e in questa prima parte del webinar introdurrò l'argomento di cui parlava poc'anzi Tiziano focalizzandomi sulla strumentazione GNSS. innanzitutto in questa slide vediamo una panoramica di quella che è la chiacchierata che andremo a fare oggi. Innanzitutto vorremmo partire dal caso applicativo che ha dato un po' il via allo sviluppo di questa integrazione fra due strumenti da un lato il GNSS e dal lato il GIS per il rilievo sul campo e come vi dicevo io approfondirò principalmente la parte che riguarda il GNSS e come utilizzarlo principalmente su un'applicazione GIS Mobile nel qual caso Qfield. Nella seconda parte invece di questo webinar lascerò la parola alla mia collega Roberta Pagandini la quale invece vi spiegherà e vi illustrerà l'applicazione Qfield e il suo rapporto e barra sincronizzazione meglio dire con QGIS. Lasceremo quindi poi spazio alle vostre domande nella parte finale del webinar. Il caso applicativo che ci si è presentato davanti è quello del rilievo di una rete acquedottistica. Esiste una normativa piuttosto dettagliata che spiega quelle che sono tutte le informazioni che devono essere registrate per ogni punto da rilevare e soprattutto anche quali che sono gli elementi da rilevare. Chiederei forse come diceva Tiziano se per favore potete non condividere il vostro schermo perché altrimenti io direi che perdo la condivisione delle slide. Ecco. Perfetto. Soprattutto dicevo quelli che sono gli elementi da andare a rilevare che sono sia elementi puntuali quali per esempio i chiusini sia elementi invece lineari quali possono essere ad esempio le condotte. Deve essere inoltre appunto come dicevo ci deve essere una definizione standardizzata di tutta una serie di attributi da associare a questi punti. quindi per il rispetto di questi standard bisogna acquisire molte informazioni sul campo ed è soprattutto in questo caso specifico necessaria un'ispezione di ogni tombino cioè si registra il punto si alza il tombino si vede quello che c'è dentro e si vanno appunto a reperire le informazioni necessarie. Ci sono quindi ci si pone quindi davanti la problematica di quale metodologia di rilievo utilizzare in relazione anche alle precisioni richieste che in questo caso in realtà sono precisioni neanche troppo spinte si parla di precisioni submetriche perché diciamo l'interesse della committenza era quello di sapere se una condotta passa da una parte o dall'altra della carreggiata e però appunto per il rispetto degli standard bisogna raccogliere una serie diciamo una serie molto alta di informazioni e si pone quindi il problema di dire se si raccolgono queste informazioni separatamente e le si associano poi in post processing quindi in un secondo momento c'è un alto rischio di fare confusione ed errori quindi la soluzione è fare tutto direttamente sul campo il rilievo appunto la metodologia di rilievo che abbiamo scelto è il rilievo GNSS in modalità NRTK perché sostanzialmente questa metodologia di rilievo consente di ottenere come ben sapete delle precisioni decimetriche centimetriche in tempo reale decimetriche centimetriche varia a seconda diciamo della strumentazione utilizzata e anche della qualità della rete di appoggio inoltre l'altro fattore che ci ha fatto propendere per questo tipo di strumentazione è il fatto che si tratti di una strumentazione piuttosto compatta e che quindi è abbastanza rapida da utilizzare per cui aumenta e oppure diciamo garantisce una buona produttività se avessimo dovuto fare questo rilievo per esempio con una stazione totale i tempi sarebbero stati notevolmente maggiori c'è un problema però nel senso che la maggior parte dei software che fanno posizionamento NRTK almeno a mia conoscenza non consentono la registrazione di molte informazioni per ogni punto ad esempio in questo caso vediamo che l'applicazione consente principalmente l'inserimento di un nome di un codice e poche altre informazioni sicuramente non consentono l'inserimento di tutta quella serie di informazioni che richiede la normativa e a questo punto bisogna capire come si può come si può fare beh la prima soluzione aspetta un attimo di poter ricondividere lo schermo la prima soluzione potrebbe essere quella di registrare i punti con l'applicazione diciamo standard oppure data dallo strumento per il rilievo NRTK associandovi un codice annotarsi sempre sul campo però separatamente le caratteristiche di ogni punto associarle poi in un secondo momento in ambiente GIS una volta che si sono esportati i punti rilevati quindi andando a compilare la tabella attributi in un secondo momento ma come accennavo prima questa è una soluzione decisamente poco pratica che riduce la produttività e soprattutto direi l'aspetto più importante è incline ad errori invece la soluzione che ci siamo abbiamo deciso di utilizzare è quella di utilizzare un software GIS direttamente sul campo in questo modo quindi è possibile creare diciamo in ambiente GIS un form personalizzato per l'inserimento dei punti quindi andando a specificare a inserire direttamente in quel form tutte le caratteristiche di cui si ha bisogno e poi a questo punto registrarle direttamente sul campo appena si registra il punto questa soluzione è decisamente più pratica ovviamente aumenta la produttività del rilievo ed è molto meno incline ad errori la vera domanda è è veramente realizzabile questa soluzione la risposta è sì utilizzando però gli strumenti giusti nel nostro caso ad esempio proponiamo una soluzione che si basa su tre strumenti diciamo ovviamente due software uno hardware il primo è Qfield che sia la diciamo la versione per Android del noto software GIS QGIS per la registrazione dei punti con il form personalizzato una strumentazione GNSS che consente ovviamente di fare il calcolo NRTK che deve essere controllata però da un dispositivo Android e poi ovviamente la QGIS per ovviamente la configurazione del progetto di Qfield e poi la restituzione finale del rilievo quindi per esempio la modifica degli stili e la pubblicazione su web del progetto come strumentazione GNSS quella che andiamo a suggerire e quella che abbiamo utilizzato noi è il ricevitore Stonex S500 è un ricevitore che vedete raffigurato in questa slide in singola frequenza multicostellazione il quale consente una precisione nominale in RTK di 3 cm ora va detto che noi in realtà non utilizziamo un vero e proprio rilievo RTK perché non abbiamo due ricevitori quindi facciamo base rover ma utilizziamo il rilievo NRTK in appoggio a una rete di stazioni permanenti per cui la precisione nominale non sarà più 3 cm ma dipenderà diciamo dalla qualità della rete importanti invece sono le dimensioni di questo ricevitore che è veramente compatto e come vedete dall'immagine è facilmente indossabile quindi non necessita per forza di essere montato su una palina questa cosa è sicuramente un vantaggio per questo tipo di rilievo perché la quantità di punti da rilevare è decisamente alta si pensi banalmente camminando ogni tombino ad esempio è un punto da rilevare per cui sono veramente veramente tanti punti e inoltre questo dispositivo è controllabile o da web UI oppure da un tablet Android con determinate applicazioni in particolare dal tablet Unistrong che è UT10 che viene venduto insieme a questo a questo strumento ci sentiamo inoltre di nominare quantomeno il ricevitore sempre Stonex S700A il quale viene venduto come ricevitore attualmente in singola frequenza ma sarà poi tramite un aggiornamento firmware diciamo diventerà ecco un ricevitore in doppia frequenza multiscostellazione il quale come vedete sicuramente consentirà delle precisioni in RTK decisamente più spinte rispetto al ricevitore che ho nominato precedentemente inoltre altro punto a favore o vantaggio è il fatto che questo ricevitore sia abilitato al servizio Atlas le dimensioni chiaramente sono un pochino più grandi e questo tipo di ricevitore sicuramente non può essere indossabile ma deve essere utilizzato su palina chiaramente questo dipende molto poi dalle precisioni che vengono richieste dalla committenza e dal tipo di rilievo che si deve a questo punto effettuare quindi nel nostro caso come ho detto prima andava benissimo il ricevitore S500 per un discorso sia di dimensioni ma anche di precisioni richieste per la gestione diciamo del rilievo NRTK di solito diciamo esistono diverse applicazioni noi in questo caso abbiamo utilizzato l'applicazione Cube Connector che è un'applicazione decisamente semplice che si trova già preinstallata nel tablet che viene ovviamente venduto insieme allo strumento e tramite quest'app si possono fare non molte cose ma diciamo quelle essenziali che servono in particolare viene gestita la connessione via bluetooth con il con il ricevitore il tablet diciamo è equipaggiato con una sim per la ricezione delle correzioni differenziali e in questo e diciamo come si vede nella nella gif sulla destra della slide è possibile appunto impostare il le credenziali per l'accesso alle correzioni differenziali va inoltre detto che noi abbiamo deciso di collegare il ricevitore via bluetooth allo smartphone al tablet insomma al controller ecco ma questa è solamente è stata la nostra scelta è possibile alloggiare la sim nel ricevitore gnss e collegare il ricevitore stesso con il tablet via wifi scusate ho saltato direi una slide ecco questa diciamo che questa questa app inoltre consente la visualizzazione di alcuni parametri utili per monitorare la qualità del posizionamento che sono principalmente lo skyplot come si può vedere ma nel menu sotto lo skyplot possiamo vedere informazioni sul rover quindi le coordinate che vengono calcolate in tempo reale con i relativi sqm stimati e lo stato della soluzione quindi può essere fix float dgps single scorrendo possiamo vedere le coordinate della base e la relativa a distanza base rover e scorrendo ancora vediamo invece gli indici DOP per appunto relativi alla configurazione satellitare di quel momento di quel preciso momento inoltre sotto ancora nel menu vediamo il listogramma con il rapporto segnale rumore altro parametro direi abbastanza utile da tenere monitorato in fase di ritmo si pone però ancora un problema nel senso che qfield va bene può utilizzare diciamo solamente il ricevitore gnss integrato nello smartphone per la registrazione dei punti quindi in realtà quello che vi ho raccontato finora è tutto bello però se non riusciamo a risolvere questo problema è abbastanza inutile perché non si può utilizzare quel ricevitore gnss su qfield però e qui diventa importante il fatto che il ricevitore sia controllabile in ambiente android appunto è possibile in android andare a selezionare un'app diversa da quella di default per il calcolo della posizione del dispositivo quindi se io andassi a selezionare come app per il calcolo del posizionamento del dispositivo cube connector di fatto è come se io stessi sostituendo il ricevitore gnss integrato nello smartphone con il ricevitore gnss esterno che sto utilizzando siccome è un passaggio diciamo non propriamente immediato abbiamo deciso di far vedere come è possibile effettuarlo innanzitutto bisogna andare a abilitare quelle che sono le opzioni sviluppatore cioè un set di impostazioni che generalmente vengono nascoste all'utente per fare questo bisogna andare sul menu di sistema e su informazioni di telefono come si vede comunque nella gif sulla destra andare su il numero della build e cominciare a cliccare quella voce finché apparirà poi una serie di tre toast message stile countdown al termine dei quali si abiliteranno le opzioni sviluppatore quindi si vede poi andando in questo set di impostazioni sviluppatore è possibile andare ecco ora si è caricata la slide è possibile andare a selezionare quella che è un'app di posizione fittizia tra le varie app di posizione fittizia ovviamente troveremo anche cube connector e quindi bisognerà selezionare questa a questo punto di fatto ha come se avessimo sostituito i due ricevitori GNSS quello integrato nello smartphone con quello esterno che sta effettuando il posizionamento NRTK quindi ricapitolando i passaggi da effettuare per il rinievo sono innanzitutto connettere il ricevitore al tablet e avviare l'apposita applicazione per la gestione del posizionamento NRTK quindi in questo caso cube connector andare nel menu di opzioni sviluppatore e selezionare l'app di posizionamento fittizio quindi cube connector prepararsi un progetto su QGIS utilizzando il quindi creandosi il form desiderato per caricarlo su QField aprire QField e iniziare a registrare i punti vogliamo inoltre sottolineare che è buona norma durante il rilievo tenersi in background l'app cube connector e ogni tanto aprirla e controllare la qualità del posizionamento specialmente se su QField si hanno degli specie di di aller tra virgolette se si vede che la posizione che ci sta restituendo QField non è propriamente quella che ci aspettiamo a questo punto uno può andare a controllare cosa sta succedendo a livello di qualità del posizionamento su cube connector e magari capire che ci sono qualche qualche problema a questo punto io lascerei la parola alla mia collega Roberta Pagandini la quale vi illustrerà tutta la parte diciamo di preparazione del form desiderato su QGIS e la sua integrazione e caricamento su QField ok spero mi sentiate e soprattutto spero che vediate le mie slide ok buongiorno a tutti io sono Roberta Pagandini e appunto come vi anticipava Lorenzo mi occuperò principalmente di illustrare tutta quella che è stata invece la preparazione del dato in fase diciamo di pre-processamento quindi prima della vera e propria attività sul campo e anche di tutta la fase invece di post processamento quindi come anche gestire il dato una volta che è stato raccolto sul campo come vi anticipava già Lorenzo per questo tipo di applicazione quindi nello specifico per il rilievo della rete acquedottistica abbiamo utilizzato appunto due software due applicativi diciamo GIS il primo lato desktop che è QGIS immagino che molti di voi conosceranno e credo non abbia bisogno di grandi presentazioni comunque si tratta appunto di un applicativo GIS desktop open source disponibile ovviamente per tutti i sistemi operativi quantomeno linux windows e mac lato invece mobile abbiamo utilizzato come applicazione appunto QField QField per quanto in rapidissima crescita è sicuramente un progetto più giovane rispetto a QGIS è comunque un progetto open source sviluppato principalmente da un'azienda svizzera OpenGIS ma una comunità come buona parte dei progetti open source una comunità molto attiva che ne garantisce appunto uno sviluppo direi continuo di recente uscita appunto la versione 1.4 ma si sta già ampiamente parlando della versione 1.5 cosa buona diciamo è che QGIS e QField dialogano alla perfezione soprattutto grazie all'utilizzo di un plugin di QGIS che è stato appunto sempre sviluppato dai principali sviluppatori di QField che è appunto il plugin QField Sync che vedremo poi andando avanti nelle slide appunto come come funziona ecco allora come vi dicevo QGIS e QField dialogano perfettamente questo cosa vuol dire vuol dire che possiamo considerare di fatto QField una sorta di versione mobile del più noto QGIS QField infatti supporta la maggior parte delle capabilities delle funzionalità e delle caratteristiche di QGIS in particolar modo a livello di formato dati QField infatti supporta sia dati vettoriali quindi shapefile geopackage database postgres sql postgis ma anche ovviamente tutta una serie di formati raster quindi geotiff vms e via di cento da per quanto riguarda invece le proprietà del layer chi ha un po' di dimestichezza con QGIS sa che per ogni layer è possibile definire tutta una serie di caratteristiche e quasi la maggior parte di queste caratteristiche sono perfettamente supportate anche da QField quando parlo di caratteristiche intendo principalmente la simbologia ad esempio la possibilità quindi di dare sia ai layer vettoriali che ai layer raster una particolare diciamo rappresentazione stilistica supporta appunto i form per l'inserimento dei dati supporta quelli che in QGIS vengono chiamati widget che poi non sono altro che delle modalità di inserimento del dato alfanumerico e ad esempio supporta i vincoli cioè tutta una serie di restrizioni che si possono mettere sul singolo campo altre componenti supportate sono ad esempio le relazioni uno a molti ma anche gli snap per quanto riguarda l'editing geometrico e i layout di stampa per poter stampare direttamente da QField dei insomma delle immagini formato pdf per quanto riguarda il formato dati in questo caso specifico noi abbiamo diciamo deciso di basarci su un database Postgres SQL con estensione spaziale PostGIS che diciamo per un lavoro di questa entità appunto perché come vi diceva anche Lorenzo stiamo parlando davvero di quantità di dati abbastanza significative l'utilizzo di un database rispetto ad altri formati vettoriali come ad esempio uno shape ci permetteva proprio di superare alcuni limiti ad esempio dei file shape quindi ad esempio numero ridotto di caratteri e via dicendo ma soprattutto ci garantiva appunto la possibilità intanto di utilizzarlo in versione multiutente la possibilità ad esempio di backupare e quindi eventualmente ripristinare il geodatabase ma soprattutto visto che poi per questo tipo di attività è prevista anche la pubblicazione online dei dati rilevati ci permetteva anche una maggiore sicurezza proprio in fase di trasferimento e pubblicazione del dato ovviamente però sono come vi dicevo anche prima sono diciamo sono permessi anche altri formati dati quello che appunto noi consigliamo magari è di indirizzarsi su formati tipo il database tipo specialite piuttosto che un geopackage che insomma garantiscono performance migliori rispetto al classico shape file ora punto per punto fondamentalmente andiamo a vedere un po' più in modo un po' più approfondito quello che vi dicevo prima in questo caso in questa slide vedete esattamente quello che intendo per supporto di simbologie ed etichette tra QGIS e QField come vedete da una parte dello schermo abbiamo fondamentalmente una schermata QGIS in cui i dati rilevati sul campo sono stati rappresentati con una classificazione basata sulla tipologia sul valore del campo tipologia stessa cosa abbiamo esattamente su QField questo tipo di caratteristica è stata completamente riportato su QField e quindi anche su QField possiamo vedere i nostri punti diciamo rappresentati secondo ad esempio in questo caso il valore inserito nel campo tipologia ovviamente supporta anche etichette ma supporta anche altri tipi di rappresentazioni ma sicuramente una delle cose più importanti in assoluto soprattutto per questo tipo di applicazione per questo tipo di rilievo è stato il fatto che QField supporta come vi dicevo prima la possibilità di crearsi delle vere proprie schede dei form quelli che comunemente vengono anche chiamati form per l'inserimento del dato alfanumerico in questo caso come vedete probabilmente dalla GIF animata vedete che appunto c'è stato possibile suddividere una lunghissima tabella degli attributi che conteneva davvero un numero di campi molto elevato in una serie di tab quindi di gruppi e sottogruppi che ci hanno permesso quindi di ordinare fondamentalmente di rendere più chiaro e più leggibile la tabella e quindi la fase appunto di inserimento questi form possono essere appunto creati tramite le proprietà dei layer di QGIS è una di quelle componenti come io spesso dico anche nei corsi di formazione che teniamo che è più facile a farsi che a spiegarsi perché vi assicuro che magari adesso può sembrare complicato impostare tutte queste cose ma è davvero molto più semplice poi avendo QGIS sotto mano e vi dicevo appunto questi form ci hanno permesso quindi di organizzare la tabella in modo più più leggibile fondamentalmente e scusate qualcuno ha acceso grazie e quindi appunto questa componente ci ha permesso di migliorare anche proprio a livello di prestazione l'attività sul campo e riducendo soprattutto la possibilità anche di inserire errori di trascrizione di fatto questo perché i form se uniti a un'altra importante e insomma significativa caratteristica di QGIS garantiscono veramente un'estrema facilità nell'inserimento dei dati alfanumerici ovvero dei dati che vanno inseriti nelle relative colonne della tabella degli attributi questa altra caratteristica sono di fatto i widget widget che nient'altro vuol dire che la modalità con cui si decide di inserire appunto il dato chi conosce QGIS saprà che i widget sono davvero molti molto numerosi che dipendono fondamentalmente dalla tipologia di dato quindi se è numerico se è una stringa se è una data eccetera in questo momento solo alcuni sono supportati da QField ma direi che quelli supportati da QField sono decisamente i più importanti e significativi perché appunto QField supporta la possibilità di inserire manualmente il testo quindi digitando da tastierino le checkbox quindi le caselle di controllo quindi fondamentalmente per eventuali campi del tipo vero o falso le mappa valore dove di fatto si sceglie una lista predefinita di valori possibili che compariranno sotto forma di menu a tendina la relazione valore che è diciamo molto simile a quello precedente la possibilità di non visualizzare un campo oppure di inserire un dato di tipo data quindi col classico pop up del calendario ma sicuramente un altro widget molto importante per QField è quello dell'allegato che nel caso di QField è direttamente collegato alla fotocamera del cellulare per cui impostando di fatto come allegato scusate sono andata troppo avanti come allegato un campo della vostra tabella vi comparirà come vedete ora nella GIF la possibilità di scattare in automatico una foto al punto che state rilevando altra caratteristica supportata da QField come vi dicevo anche prima sono le relazioni 1 a n quindi le relazioni 1 a molti che permettono di fatto di connettere quello che viene di solito definito layer padre con un layer figlio tramite di fatto una colonna in comune in questo caso per noi è stato molto utile perché ci ha permesso di fatto di gestire quelle che abbiamo definito diciamo specifiche tecniche per determinati tipi tipologie di punto queste relazioni sono appunto perfettamente supportate anche in QField quindi nonostante debbano essere gestite e impostate lato QGIS è possibile ovviamente poi rivederle e riaverle anche sull'applicazione mobile sia in consultazione quindi semplicemente interrogando il punto potrete vedere direttamente anche le specifiche connesse ma anche ovviamente in editing per cui nel momento in cui andrete ad aggiungere un punto sarà possibile non solo aggiungere i campi e le informazioni relative al layer padre quindi in questo caso i punti ma anche eventuali specifiche tecniche tutto questo diciamo passaggio tra QGIS e QField è possibile grazie a il plugin QField Sync questo plugin di fatto cosa fa rende un progetto QGIS compatibile per il suo utilizzo all'interno di QField questo plugin come tutti i plugin di QGIS è ovviamente pubblicato sulla repository ufficiale quindi viene facilissimamente installato all'interno di QGIS con le modalità di installazione dei plugin standard e appunto di fatto crea semplicemente una sorta di pacchetto quindi un piccolo un progetto una cartella con all'interno il progetto QField che deve essere poi ovviamente trasferito nel proprio device permette anche di configurare alcune caratteristiche dei singoli layer quindi di fatto lui il plugin vi permette di scegliere layer per layer ovviamente per tutti i layer caricati all'interno del progetto QGIS di scegliere di fatto cosa fare lato QField nel senso che ad esempio vi permette di creare una copia del layer nel caso voi non vogliate diciamo andare ad agire direttamente sui layer del progetto oppure l'opzione diciamo nessuna nessuna azione vi permette appunto di lavorare online quindi direttamente sui layer del progetto QGIS oppure molto importante l'editing offline la possibilità quindi di fatto di crearsi un pacchetto unico in cui tutti i dati inseriti nel progetto QGIS vengono pacchettizzati all'interno di un unico geopackage e quindi questo permette di lavorare quindi di editare di aggiungere punti completamente offline oppure appunto altra possibilità è quella di rimuovere il layer quindi con l'opzione rimuovi il layer QGIS non verrà importato in QField di fatto poi il plugin è vedrete anche in questo caso è più semplice da utilizzare che da spiegare perché davvero i parametri che richiede da impostare sono veramente pochi volendo è possibile anche insomma limitare l'importazione delle feature a una bounding box predefinita però di fatto quello che la cosa principale è che appunto vi permette di esportare il progetto QGIS in una sorta di progetto QField questo progetto deve essere poi prelevato dal vostro computer di fatto e semplicemente copiato all'interno del vostro device fatto questo si può partire direttamente con il rilievo vero e proprio sul campo allora per quanto riguarda la registrazione dei punti di fatto abbiamo due modalità quella tramite GPS che in questo caso come appunto vi ha spiegato precedentemente Lorenzo è stato utilizzato un GPS esterno e in questo caso ovviamente per procedere all'editing dobbiamo sicuramente abilitare il posizionamento che di default in QField è disabilitato selezionare il layer su cui vogliamo andare ad aggiungere i punti rilevati e esattamente come in QGIS per chi lo conosce abilitare la modifica dei dati nota importante ma poi utilizzando QField sicuramente ci si prende mano con tutte queste opzioni particolari è quella di attivare l'opzione appunto mantieni centrato perché diciamo che di default il mirino di QField non è non è sincronizzato diciamo non segue esattamente la posizione del GPS una volta definita la posizione tasto verde e viene creato di fatto il nuovo punto una volta aggiunto il nuovo punto in automatico vi si aprirà il vostro form per l'inserimento dei dati e potrete andare immediatamente a inserire tutte le informazioni alfanumeriche associate al punto appena rilevato l'altra modalità di fatto è quella manuale che consiste semplicemente nell'andare a spostare il mirino nella posizione desiderata in questo caso ovviamente la posizione del punto viene scelta proprio dall'operatore andando a spostare come vi dicevo la mappa rispetto al mirino e poi semplicemente cliccando di nuovo sul pulsante verde verrete immediatamente rindirizzati appunto al form per l'inserimento dei dati una volta inseriti tutti i dati la modifica viene salvata non c'è problema ovviamente in entrambe le modalità di editing sia quindi quella con la registrazione tramite gps o quella manuale è comunque possibile selezionare un punto e andare a modificarne la geometria o eventualmente anche le informazioni alfanumeriche inserite fatto questo quindi rilevati tutta una serie di punti insomma una volta che abbiamo concluso la nostra giornata di rilievo sul campo quello che è necessario fare soprattutto se abbiamo lavorato in editing offline è quella di riportare tutti i dati tutti i punti che abbiamo raccolto sul campo nel nostro progetto QGIS per fare questo ci affidiamo sempre al plugin QfieldSync che permette appunto semplicemente andando a selezionare la cartella nel nostro device che contiene il progetto su cui abbiamo lavorato fino ad ora e andarlo a importare nuovamente all'interno di QGIS come vedrete spero anche dalla GIF appunto semplicemente selezionando la cartella del progetto cliccando su sincronizza nel giro di qualche minuto ovviamente i tempi possono variare a seconda della quantità di dati ci ritroviamo tutte le tutti i punti che abbiamo raccolto sul campo nuovamente sul progetto QGIS in questo caso poi appunto con altre veramente pochissime operazioni in realtà semplicemente usando un altro plugin di QGIS ci è stato poi permesso c'è stato poi possibile scusate pubblicare i dati e tutte le informazioni alfanumeriche raccolte sulla piattaforma GIS hosting che è appunto una piattaforma di hosting geografico che ci ha permesso appunto di pubblicare davvero in pochissimi e semplici passi il progetto QGIS sul web in questo caso vedete appunto la tipica schermata della piattaforma GIS hosting e un esempio appunto di interrogazione di uno dei punti rilevati come vedete con la possibilità anche di visualizzare le foto e via dicendo quindi per tirare un pochino le somme possiamo dire che sicuramente la tecnologia GNSS NRTK è la tecnologia che meglio ci ha permesso di ottenere un buon rapporto fra le precisioni ottenute e la produttività sul campo inoltre la possibilità di integrare in QField un ricevitore GPS esterno ha fatto sì che anche il rapporto fra la qualità delle precisioni del posizionamento e diciamo la completezza delle informazioni acquisite fosse veramente molto alto QGIS e QField ovviamente hanno facilitato notevolissimamente l'attività sul campo proprio perché in questo caso noi ad esempio non dovevamo raccogliere soltanto le informazioni riguardanti i punti ma anche le informazioni riguardanti ad esempio le geometrie lineari che erano in questo caso le condotte quindi avevamo davvero una quantità di dati molto elevata da rilevare e l'utilizzo combinato di questi due software ci ha garantito sicuramente di ottimizzare i tempi sul campo ma anche di ottimizzarli nella fase di post processamento infatti abbiamo più o meno valutato insomma calcolato che in circa 5 ore di rilievo si aveva una buona media di 70 punti e per quanto riguarda l'attività di post processamento che poi altro non era a quel punto che la sincronizzazione da Q-Fill da Q-GIS e una serie di piccole operazioni di editing soprattutto sulle condotte abbiamo calcolato che più o meno ehm riguarda cioè durava insomma ci impiegava circa un'oretta di tempo quindi insomma da un punto di vista delle ottimizzazioni soprattutto dei tempi questa soluzione possiamo dire che ci ha soddisfatto pienamente ecco e io avrei concluso vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente a questo punto lasciamo spazio alle alle vostre domande sì ce n'è già una eh in chat chiedono se Q-Fill è compatibile con ArcMap non credo sinceramente nasce proprio per essere compatibile con con QGIS quindi sicuramente è possibile diciamo in qualche modo elaborare poi i dati anche con ArcMap però tutto questo discorso di sincronizzazioni e di caratteristiche supportate non no con ArcMap non credo proprio sia possibile ok un'altra persona chiede 14 minuti appunto sembra tanto da cosa dipende sì forse cioè da spiegare un attimo bene qual era l'oggetto allora dipende dal fatto che innanzitutto ogni punto prevede l'apertura del tombino e l'ispezione del tombino che non è eh vi assicuro per esperienza personale cosa proprio da poco nel senso che il tombino spesso e volentieri non si apre il tombino io non sono in grado di aprirlo quindi ho bisogno ad esempio di almeno un'altra persona che mi aiuta e e poi la quantità di informazioni è veramente molto elevata noi dobbiamo mi sembra raccogliere eh circa la tabella degli attributi del del layer puntuale in cui inseriamo anche tutte le informazioni alfanumeriche conta insomma diverse decine di campi ok sì quindi questa era un po' la questione eh dunque riguardo alle presentazioni ne rispondo io per tutti eh tutto il webinar sarà registrato è registrato e sarà a disposizione seguiteci poi sui canali social sia di Giterca e di Stonex e comunque sul nostro canale youtube lo troverete e quindi è a disposizione chiedono la sincronizzazione porta le foto anche sul desktop e l'altra cosa è possibile importare anche file raster in Qfield allora rispondo prima alla seconda sì Qfield supporta ovviamente i file raster per quanto riguarda le foto allora diciamo che quella delle foto è stata è una funzionalità che nell'ultima versione è stata fortemente migliorata di fatto quando quando scusate quando fate una foto tramite Qfield la foto adesso viene direttamente salvata nella gallery del vostro telefono la sincronizzazione leggevo giusto ieri in qualche issue sulle sulla repository di Qfield non è ancora perfettamente supportata nel senso che nel momento in cui fate di nuovo la sincronizzazione da Qfield a QGIS le foto che che avete fatto tramite Qfield dovete copiarvele diciamo manualmente dal telefono al al computer perché appunto diciamo quando si scatta la foto viene messa nella tabella degli attributi viene messo il percorso relativo alla foto dovete poi quello andarvelo un po' a ricreare però ho letto che appunto dovrebbe essere una funzionalità che nella versione 1.5 dovrebbe essere ampiamente supportata ok quindi copiare il progetto su Qfield e viceversa sul pc senza passare dal plugin ma semplicemente copiando la cartella col progetto cosa comporta cioè obbligatorio usare la sincronizzazione allora la sincronizzazione è necessaria soprattutto se decidete di utilizzare l'editing offline se decidete di fare editing quindi servendovi della rete internet se invece vi volete appunto fare editing tramite rete internet di fatto quindi essendo collegati online potete anche potete anche evitare questo questo passaggio dipende anche un pochettino da che tipo di dati utilizzate se usate un database se usate dei vms dei vfs se usate degli shapefile quello dipende un po' ok è possibile utilizzare Qfield senza avere QGIS non saprei come cioè sicuramente potete installarvi l'app però di fatto Qfield legge un progetto QGIS per cui non credo che sarebbe possibile farci come viene gestita la georeferenziazione in QGIS Qfield cioè se devo rilevare una condotta appoggiandomi alla cartografia una CTR georiferita ad esempio in gosbuaga Roma 40 viene gestito questo da QGIS e da Qfield ovviamente da QGIS i sistemi di riferimento sono gestiti e di conseguenza anche da Qfield diciamo che Qfield a quel punto si appoggia al sistema di riferimento che voi definite lato QGIS per il progetto ok un'altra domanda i dati invece che escono dal ricevitore quindi di DOP di SQM i dati associati alla precisione del posizionamento possono essere inserite automaticamente in campi che noi prestabiliamo credo solo che si possa fare qualcosa del genere però utilizzando ad esempio un database non credo che con uno shape questo sarebbe possibile lato GIS lato GNSS lascio la parola a Lorenzo perché è più esperto di me in questo momento non lo so direi di no in quanto chiaramente dall'app Cube Connector escono tutta una serie di parametri però secondo me non vengono letti dall'applicazione Qfield in questo momento cioè per cui se banalmente l'app Cube Connector produce un anche un NMEA mettiamola così ma banalmente un CSV volendo con le informazioni per esempio latitudine longitudine quota magari SQM stimati e DOP di questo CSV o NMEA da Qfield viene letta solamente latitudine longitudine quota non viene letto non viene letto altro va anche detto che Qfield è un'applicazione open source mi viene da dire per cui si può si possono fare delle richieste di upgrade dell'applicazione però questo non dipende chiaramente da noi nel senso che noi non siamo gli sviluppatori ovviamente dell'app Qfield su questo faccio una considerazione io direi ora se non arrivano altre domande ovviamente sì ce ne sono altre quindi adesso andiamo avanti però quello che vi abbiamo presentato è appunto una soluzione integrata tra ciò che ha sviluppato GTR lato Qfield e QGIS e i prodotti di Stonix il fatto che alcune delle vostre domande rispondiamo dicendo dipende oppure ancora work in progress dipende dal fatto che appunto questa è un'applicazione ora lato insieme le due aziende insieme stanno anche cercando di ragionare a una soluzione un po' più integrata quindi stiamo andando anche in questa direzione facendo in modo che ciò che esce dal ricevitore Stonix riesca a essere ancora più rispetto a quanto già non sia adesso ancora più integrato con Qfield quindi ad esempio questo discorso del doc dell'SQM eccetera eccetera è una delle informazioni che vorremmo provare a integrare chiedo a Lorenzo che sei il relatore se puoi rimettere la slide con i contatti finali avete due slide quella lato GTR e quella lato Stonix ovviamente con tutti i nostri riferimenti comunque le avrete poi anche in registrazione vi ho mandato a tutti un link in chat in cui se volete potete prenotare degli appuntamenti one to one con i nostri tecnici per approfondire singole questioni che vabbè ora qua non sarebbe possibile fare ancora una domanda è possibile sincronizzare WMS in Qfield chiedo a Ressa sì sì assolutamente sì sì il WMS come il WFS è uno dei formati supportati da Qfield è possibile sviluppare un'app più dedicata a specifici prodotti funzioni insieme a OfficeGIS e a voi è possibile tutto è possibile questa è una sì sì è tecnicamente possibile assolutamente sì questo è uno degli argomenti di cui si potrebbe discutere in un incontro dedicato assolutamente sì chiedono se posso far rivedere il passaggio da GPS per impostare l'antenna GPS su Qfield forse l'ha chiesto vai vai è una domanda che mi è arrivata forse solo a me però potrebbe essere di interesse per tutti a questo punto direi che la slide è questa qua non questa ok innanzitutto si devono abilitare le opzioni sviluppatore chiaramente ho dato un attimino ho saltato il passaggio in cui si apre l'app kube connector e si imposta il posizionamento nrtk in quanto questa è un passaggio diciamo standard che chiunque ha un ricevitore GNSS direi che sa fare specialmente se ha un ricevitore appunto di casa stone mentre questa parte è appunto abilitare le opzioni sviluppatore quindi andare su informazioni e impostazioni sul andare su sistema e successivamente su impostazioni informazioni del telefono premere la voce numero build per un bel po' di volte finché appariranno tre messaggi toast message in stile countdown diranno 3 2 1 ora siete sviluppatore a questo punto tornando indietro nel menu di una voce compariranno la voce opzioni sviluppatore successivamente bisogna bisogna aprire il menu opzioni sviluppatore e sotto la voce direi debug c'è il menu seleziona app di posizione fittizia e a questo punto si appariranno qualche applicazione tendenzialmente dovreste vedere cube connector fra quelle e selezionando cube connector di fatto in questo momento la posizione del GPS cioè la posizione del telefono non è più quella calcolata dal GPS integrato del telefono ma quella calcolata dal GPS esterno che sta facendo posizionamento NRTK quindi qualsiasi applicazione che utilizzi la posizione del telefono tra cui appunto anche Qfield utilizzerà la posizione calcolata dal ricevitore GPS esterno quindi poi a questo punto si potrà chiudere si potrà mettere in background meglio questa applicazione aprire Qfield e cominciare a rilevare punti insomma ok grazie mille se ci sono altre cose allora direi chi a chi avesse necessità diciamo piacere di averlo attestato ce lo comunichi diciamo via mail e niente direi che siamo arrivati a attenzione grazie molti a tutti eravate direi tanti quindi insomma ci sono qui avete i nostri contatti sentiamoci per qualsiasi cosa e seguiteci ci sarà il prossimo webinar ecco scusate l'ultima cosa il prossimo webinar giovedì tra due giorni in cui chiuderemo questo ciclo parlando dei prodotti hardware software per il Glievo Lidar ne abbiamo già fatti due in questo senso ma questo sarà un po' un riassunto in breve e poi insomma seguiteci sui perché metteremo a calendare probabilmente una serie di altri canali di questo tipo per gli attestati chiocciolastonex.it quindi direi che ho detto tutto se non ci sono altre domande questioni e ringrazio i due relatori Lorenzo e Roberto per la chiarezza e tutti i partecipanti grazie mille alla prossima grazie a tutti